Ci vuole pochissimo capire, capiamo tutti, che la vita è piena. Di solito è stra piena. Impegni che uno dopo l'altro, uno sopra l'altro. Allora, con la vita così piena, di così tanti, tanti impegni, come dobbiamo vivere? Come dobbiamo gestire i tanti impegni che ci sono? Quando, onestamente, al mio calcolo, per la mia vita, ma la stessa cosa per voi, no, umanamente non è possibile, non è possibile fare tutto. Allora, come dobbiamo vivere? E come possiamo avere pace quando c'è troppo da fare? Cioè, non c'è tempo per tutto. Io vivo così, costantemente. Ognuno di noi ha tantissimi impegni nella vita. Abbiamo lavoro o studio, cioè uno che ancora fa scuola, studiare, è il lavoro. È il tuo lavoro che serve per prepararti ed è quello che prende più ore della settimana. Il lavoro è quello. Sono impegni da Dio, sono impegni importantissimi. Poi abbiamo impegni di famiglia, certamente estremamente importanti, i vari roli di famiglia che abbiamo. Abbiamo impegni come membri del corpo di Cristo, con la responsabilità davanti a Dio ad usare i nostri doni spirituali per edificare gli altri in chiesa e promuovere il regno di Dio. Un impegno di grandissima importanza. Chi ha una casa, è anche un appartamento, ma chi ha una casa, c'è sempre manutenzione da riparare questo, da riparare quello. La stessa cosa la macchina, burocrazia, bollette, uffici. Cioè, la vita è piena di tantissimi impegni, tanti dei quali non puoi rimandare. Se la macchina ha un problema, non va. Non puoi rimandare, penso, fra sei mesi. Se la macchina non va, devi pensarci adesso. Se c'è una scadenza che devi pagare, devi andare in ufficio, devi farlo adesso. Ci sono impegni da tutte le parti. E non ho elencato mica tutto, questo è solo un esempio, ho dato alcuni impegni. Come, alla luce di questo, come possiamo avere una vita equilibrata? Una vita tranquilla? Una vita con pace, anziché stressata? Come possiamo compiere le cose giuste e non trascurare altre cose giuste? Come possiamo vivere per la gloria di Dio, quando in realtà sembra che stiamo sempre correndo, correndo, senza arrivare a compiere? Certamente non esiste una risposta in modo specifico. Allora dedichi tali, tali ore a quello e tali, tali ore a quello. No, non esiste una risposta così. Perché prima, ognuno ha situazioni diverse. Numero due, ogni persona ha situazioni che sono diverse oggi da quelle che erano ieri e saranno diverse ancora domani. Quindi, non esiste una risposta di un tot numero di ore dedicati al lavoro, alla famiglia, alla chiesa. No, non esiste quello. Non esiste. Non è lì che troveremo la risposta. Piuttosto, quello che Dio ci dà sono principi. Principi dalla parola di Dio che possiamo applicare in ogni situazione. E così vivere una vita equilibrata e avere pace. Spesso quando consideriamo i nostri impegni abbiamo il problema di concentrare, quando pensiamo come viviamo, abbiamo la tendenza di concentrare, concentrare così tanto su certi impegni che trascuriamo altri impegni. Per esempio, tipicamente si dice che, non è solo, ma ci sono uomini che si buttano nel lavoro, soprattutto se non è un lavoro che ha un orario fisso. Se sei un lavoro in un tipo di fabbrica che tu devi timbrare a quell'ora e finisci a quell'ora, non puoi fare più di quello. È quello che ti chiedono di fare. Ma un lavoro che è un lavoro che può fare di più. Ci sono lavori dove un imprendettore, uno che va a vendita o quello che, dove lui può decidere, spesso si trova buttandosi così tanto nel lavoro che trascura la famiglia, trascura il regno di Dio, trascura altre cose, la cura spirituale di sé stesso. Ci sono donne che si buttano così tanto, così tanto nel curare la famiglia, marito e figli, che non hanno tempo per altri aspetti del regno di Dio e trascurano. Spesso succede che i studenti vengono consumati da studiare, 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 che trascurano altri impegni che Dio ha dato. Questo è solo un esempio, non sto elencando gli unici. Questo è un esempio di come uno può. Ci sono persone che ci tengono a curare bene la casa e il giardino, e hanno il giardino, se tu vai in Austria, tu vedi dei giardini che sembrano da libri, sembrano proprio da fotografare, uno dopo l'altro dopo l'altro, ma richiedono moltissimo tempo. Tutto, ogni filo di erba, ogni fiori perfetto. E lì, per forza, spesso vengono trascurate tante altre cose. Quindi, si può dedicare tanto tempo ad una cosa buona, ad una cosa da Dio, da trascurare altre cose buone, altre cose da Dio. E questo è peccato. Certamente, ci sono tanti esempi di come possiamo essere non equilibrati nel portare avanti le responsabilità che Dio ci ha dato. Cioè, uno può essere talmente impegnato nell'opera di Dio. vuole sempre, che ne so io, evangelizzare, o fare questo, o fare studi. Ho conosciuto una volta un uomo, un marito, che tornava dal lavoro, si chiudeva dalla famiglia, all'epoca avevano, mi pare, cinque figli, e si chiudeva in una stanza per leggere, leggere i suoi libri teologici, di teologia, libri così, buoni libri, ma lui non curava la famiglia, non aiutava la moglie, non faceva papà per i suoi figli, quindi faceva una cosa buona, ma trascurava un grande comandamento, un grande impegno che Dio aveva dato a lui. Si può buttarsi in cosa meno erificante, ci sono persone che si buttano in degli hobby, in divertimenti, in giocare in internet, e perdono ore, perdono ore guardando film in YouTube, perdono tempo, e così trascurano il ruolo che Dio ha dato. Dobbiamo capire, per migliorare, che trascurare qualcosa che Dio mi ha dato, è peccato. Non è che, oh sì è vero, dovrei migliorare, no, è peccato. Signore, io sto peccando contro di te. Se uno, facendo una cosa giusta, uso fra le cose migliori, come esempio, uno si dedica alla famiglia, importantissimo, importantissimo, ma curando la famiglia, trascura il ruolo nel regno di Dio, in altri campi. Quello è peccato. Sta peccando contro Dio. Certamente, un uomo che si butta a lavorare, per guadagnare, per provvedere tutto per la famiglia, è più di tutto che serve, e trascura l'opera di Dio. Sta peccando. O trascura la famiglia. Cioè, se io faccio una cosa che Dio mi ha dato da fare, e lo faccio bene, ma facendolo, prendo tempo che mi fa trascurare altre cose, che proprio trascurro, sto peccando contro il tempo. E il fatto che quello che sto facendo da questo lato è buono, non mi scusa davanti a Dio. Perché mi ha comandato di anche fare quello. Quanto mi ha comandato questo? Mi ha comandato anche quello. E quindi sto peccando contro Dio. E non devo, eh, ma questo è più importante. Lo dico chi? Lo dico io. Lo dico io. Dio mi ha comandato di anche fare questo. Esempio. In Romani 12, in Primo Corinthians 14, parla dei doni, e anche in Primo Pietro 4, parla dei doni spirituali, che dobbiamo, come dice Primo Pietro, mettere al servizio degli altri. Eh, ma non ho tempo, devo fare questo, una cosa buona, ma io non ho tempo di mettere i miei doni al servizio degli altri. Sono stato io a decidere, Dio, tu sbagli. Questo è più importante, quindi non devo obbedirti là. Ma questo non è vero. Dio mi ha, Dio ha stabilito i Suoi comandamenti, non noi. E dobbiamo capire questo. È importante ricordare che Dio ci comanda a fare tutto quello che facciamo per la gloria di Dio. Dio ha creato l'uomo per la Sua gloria. Non è che dovremmo glorificare Dio solo quando facciamo opere religiosi. Ok, se è evangelizzo, devo farlo alla gloria di Dio. No, devo fare tutto alla gloria di Dio in ogni campo della vita. Allora, leggo per esempio Colossesi 3,17. Conosciamo questo. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù. rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Tutto quello che facciamo dobbiamo fare nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù vuol dire per la Sua gloria. Vuol dire io faccio solo quello che è la volontà di Dio per me in quel momento. se no, non è nel nome di Gesù. Allora, questo riguarda, dice il versetto, tutto quello che diciamo con le nostre parole in qualunque contesto. Vuol dire ogni cosa che facciamo in ogni momento della vita. Non ci sono momenti dove dire ehi ma sai, appena finisco questo. No, no. Non posso dire appena finisco questo faccio nel nome di Gesù. Dio mi comanda tutto quello che faccio e dico di fare nel momento nel nome di Gesù. Un altro brano insegna la stessa cosa. Primo Corinthians 10, 31 Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Allora, scusate, fra tutto quello che facciamo due delle cose più banali in tutta la vita sono mangiare e bere. Cioè, è qualcosa che facciamo tutti i giorni. Tutti i giorni. Quanti volte al giorno si beve? certi poco. Gli italiani pochissimo. Ma noi americani moltissimo. Cioè, quanti litri al giorno beviamo sempre costantemente bevendo una cosa che è una cosa da fare senza pensare. Mangiare spesso. E anche nelle cose banali anche nelle più piccole cose dobbiamo fare alla gloria di Dio. non devo fare niente solo per farlo. Devo fare tutto alla gloria di Dio. Tutto. Non esiste il tempo mio che posso fare senza pensare alla gloria di Dio. Certamente non è una schiavitù. Questa è una liberazione perché la schiavitù è la schiavitù del peccato. E questo mi libera da quello. La vera vita cristiana è una vita in cui dovremo valutare ogni singola scelta, ogni impegno di qualsiasi tipo e scegliere di fare solamente quello che veramente è secondo la volontà di Dio e porta gloria a Dio. Allora, qui arriviamo ad un principio molto importante. Se io faccio un impegno che in sé viene da Dio ma lo faccio con un impegno così grande che mi fa trascurare altri impegni che vengono da Dio, non sto glorificando a Dio con il mio impegno. Cioè, se il mio impegno lavoro, scuola, famiglia, evangelizzare, mi fa trascurare un altro comandamento di Dio, Dio non sta con me in quello che sto facendo. Nel piano perfetto di Dio dobbiamo e possiamo fare tutto quello che Dio intende in ogni campo. E se non ho tempo vuol dire che io sto cercando nella mia forza di compiere qualcosa e Dio non c'entra. Io sto cercando di arrivarci e continuo porta chiusa, continuo porta chiusa, continuo porta chiusa, continuo porta chiusa. Devo provare ancora e non ho tempo veramente a vivere come Dio mi comanda. Sto edificando io, non Dio. Ho menzionato l'uomo che si butta nel lavoro, ma devo avere un lavoro migliore e così per forza devo trascurare, non posso usare i miei doni con gli altri, non posso vivere per la gloria di altri campi, ma perché trovo questo nuovo lavoro? Allora mi dedicherò a Dio. Lui sta edificando, Dio non è coinvolto in quello che edifica Lui. Uno studente, ma no, devo studiare, devo studiare, non posso in questo momento aiutare le mie famiglie, non posso vivere per la gloria di Dio, devo studiare, perché devo per forza, devo per forza io creare la mia vita. Devo auto-benedirmi, devo auto-benedirmi, credo, oh certo, io prego, signori, ti prego, aiuta, signori, aiutami a arrivare a quel lavoro, aiutami a superare quell'esame, aiutami a avere aumento di stipendio, ma io sto chiedendo a Dio di timbrare quello che voglio io, quando per ottenere io sto peccando. Questo non è vivere per la gloria di Dio, quello in cui ci impegniamo così tanto non è più l'impegno che Dio vuole per noi, stiamo cercando di costruire per conto nostro e Dio non partecipa con noi. Tutta la nostra fatica è in vano, anche se dovessimo arrivare, arriviamo al costo di allontanarci da Dio. Conosciamo tutti Samo 127, ma vi leggo ancora. Se l'Eterno non edifica la casa, in vano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, in vano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi, riposare e mangiare il pane di duro lavoro. Perché gli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. E questo è vero. E io posso dire che vedo da anni e anni certi credenti che si affaticano, si affaticano, sono sempre stanchi e Dio non benedice. E la vita è sempre un travaglio costante perché stanno facendo loro e non Dio. E questo Samo è molto preciso in quello che dice. E vanno alzarvi presto, andare a letto tardi, tutto il giorno a faticare. Dio non sta con voi. Dio non è con voi. perché state edificando voi. E quindi io devo chiedermi io sto edificando o questo è dove tu mi vuoi. Io sto dando l'equilibrio giusto o sto sacrificando quello che tu mi hai comandato da fare. Ma non ho tempo adesso devo, devo, devo fare questo. Ma tu non mi hai detto che devo. Ho scelto io. Ho scelto io. Uno dei campi che spesso ci inganna e il campo economico. Dobbiamo mangiare. La Bibbia parla moltissimo di soldi. Moltissimo di soldi. Cosa dice Gesù in Matteo 6 per quanto riguarda soldi? Per quanto riguarda soldi per avere di mangiare e di coprirci? Dice che Dio non sa di queste cose e dobbiamo pensarci noi perché Dio non ci pensa. Lui solo pensa alle cose spirituali e tocca solo noi pensare a quelli o dice piuttosto che Dio sa che avete questi bisogni perché Lui vi ha creato e dice voi non preoccupatevi di queste cose piuttosto cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Io posso dire sulla testimonianza di tante persone che conosco che Dio che Dio non promette di farti avere un bel conto in banca ma Dio promette di curarvi e Dio lo fa quando la condizione viene adempiuta lì cercate per primo il regno di Dio. Uno dice no ma ma se io arrivo a quel tipo di lavoro allora sarò tranquillo e Dio non può cambiare tutto in un attimo e tu prendi una malattia e non puoi più lavorare quanto sei tranquillo adesso. Dio ha i suoi mezzi non dobbiamo confidare in un certo lavoro ma se io arrivo a quella laurea allora so che posso trovare un buon lavoro quello è confidare non in Dio quello è confidare in una laurea non è la stessa cosa avere un certo lavoro non è confidare che ma se io arrivo a quello allora so che potrò andare bene quello è un pagano che non confida mica in Dio confida in quel lavoro quante persone conosco che sono arrivati a quel tipo di lavoro e Dio ha fatto sì che hanno perso tutto sono rimasti malissimi mentre quel semplicione con il suo semplice passando lavoro perché non potevano mai trovare uno fisso Dio ha sempre curato quando confido in qualcosa che potrei sperare io a ottenere anzi che in Dio io peccherò oltre ad avere quell'idolo peccherò non facendo quello che Dio mi ha chiamato a fare perché arrivare a questo o quello o quello trascurrò quello che Dio mi ha comandato da fare infatti quando ci impegniamo troppo in un campo che sia la famiglia che sia una forma di ministero che mi piace che sia lavoro o studio qualunque campo in cui ci impegniamo troppo trascurando altre cose non stiamo vivendo volevano curare la famiglia la nostra famiglia i nostri figli trascurando di usare i loro doni spirituali ho conosciuto tutto dove possiamo innalzare come idolo cose buone sei un pastore ci tiene il ministero e trascura la famiglia è un idolo per lui quindi un idolo non è solo una statua di pietra può essere una cosa buona una cosa che viene da Dio però viene preso messo al posto di Dio e il cuore va lì anziché a Dio quindi è importante lavorare? certo è fondamentale Dio dice in Genesi tu mangerai dal sudore dal fronte quindi certo dobbiamo lavorare è giusto impegnarci a curare la famiglia? assolutamente assolutamente infatti di solito genitori cristiani tendono a sbagliare in una di due direzioni conosco pochissimi che sono equilibrati una direzione è quello che si prende dal mondo che trascurano i figli cioè pieno di le loro cose e trascurano ad insegnare alle varie i figli nelle cose di Dio non hanno mai tempo questo è un estremo l'altro estremo che si dedicano moltissimo ai figli trascurando l'opera di Dio e tutti due sono brutti ma almeno questi aiutano tanto a mettere dentro il principio di Dio no questi insegnano ai figli di non avere al cuore il regno di Dio cioè questi genitori insegnano ai loro figli di non avere al cuore il regno di Dio di essere egoisti viviamo per noi come famiglia lasciamo stare gli altri non importa che Dio salva tante persone e hanno gioia e tristezza per le cose che succedono alla loro famiglia e i figli imparano a essere egoisti quindi tutti e due sono bruttissimi Dio ci chiama a vivere una via equilibrata dove cresciamo bene i figli ma dedicandoci molto a rendere Dio oltre a solo i figli questo è un esempio lavoro necessario ma non che sia dove mi aggrappo trascurando di usare i miei doni spirituali quello è peccato quello è stoltezza quello è cercare di creare io e spesso Dio lascia una persona battersi la testa contro il muro e non è mai successo perché Dio non sta aiutando il problema non è che tutte queste cose lavoro figli altri impegni sono peccati il problema è che li inalziamo ad un ruolo che Dio non ha dato noi possiamo esagerare in qualunque campo della vita ci sono di natura avremo tutti hobby passioni cose che ci interessano dalla musica a uno sport alla fotografia al computer a viaggiare a stare con amici e possono essere cose validissime possono essere cose belle il problema non è che una cosa è malvagia in sé il problema è che se io mi dedico a qualcosa che mi piace che è legittimo però mi fa trascurare qualcos'altro non sto vivendo alla gloria di Dio ho sentito tanti credenti dirmi che è difficile trovare il tempo per crescere spiritualmente leggere libri eccetera e ci sono situazioni una malattia uno prende una forte influenza alla febbre non so di te ma io ti dico io non ho granché di cervello in quel caso di studiare la Bibbia cioè se io ho una forte febbre la mia cervello non regge di stare lì e leggere e concentrare leggo le parole ma non mi rimane allora ma non sto parlando quando uno è ammalato non sto parlando quando il figlio è in ospitale o il merito o chi sia e tu stai passando ore ogni giorno correndo avanti dietro l'ospedale non sto parlando di quello sto parlando quando siamo presi con le cose quotidiane che durano anni e non abbiamo tempo per il Signore lavoro scuola altri impegni la casa se ho cose in casa rotte allora se un tubo è rotto e perdi acqua non posso rimandare un mese ma ci sono cose che posso rimandare quindi quando il tuo impegno in qualcosa è tale che ti rende difficile trovare il tempo per crescere nel tuo cammino spirituale e per servire Dio vuol dire che il tuo impegno in quel campo è troppo alto non è da Dio non è da Dio eh ma è una cosa temporanea temporanea di qualche ora o temporanea di qualche giorno va bene qualche ora ma se arriva qualche giorno ma chi dice temporaneo ti sta ostacolando e se diventa non giorni ma settimane ma ti privi spiritualmente e non stai usando i doni per edificare altri che hanno bisogno di te quanto tempo bisogna dedicare ma scusami non c'è una risposta di ore un padre con un lavoro con una famiglia con bambini con doni spirituali che richiedono tempo non avrà tempo per tante attività in più quella persona una vedova una vedova senza figli o sono tutti fuori che non lavora più forse avrebbe un po' più tempo ma è da usare per il piacere o è da usare per altri ministeri perché adesso è liberato da quello che dovevo fare come mamma dovevo lavorare quello che era però dobbiamo non misurarci con quello che fanno altri non dobbiamo misurarci assolutamente con quello che fanno i non credenti dobbiamo dire signore io voglio fare tutto alla tua gloria allora vuol dire che non posso fare nulla di bello no ma stai scherzando servire il signore è bello amare altri è bello ma si può a me piace se io vedo una cosa bella spesso io prendo la macchina fotografica e corro fuori e scatto la foto cioè non tutti i giorni ma di solito ogni settimana trovo oh 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 voglio fare la foto di quello adesso la primavera fiori c'è da fare le foto e qualche momento trovo perché sono cose che rimangono però non sono ore sono momenti qui momenti là godiamo il mondo che Dio ci ha dato godiamo il mondo io ho preso la passione di fare i panni artigianali e quando serve cosa ogni due settimane faccio del pane che è buonissimo e mangiamo pane è una parte della nostra dieta è un pane molto molto buono non vendono nei negozi questo pane ma me ne faccio ed è rilassante posso accendere un brano della Bibbia mentre sto facendo e lavoro preparo questo pane abbiamo un ottimo pane che godiamo insieme e abbiamo e mi stendo un pochettino sempre davanti al computer quindi non è peccato per una questione di equilibrio e sto facendo per il cuore per la gloria di Dio allora come possiamo cambiare ognuno di noi se non in questo momento spesso si trova peccando non usando bene il nostro tempo investendo troppo in una cosa e troppo poco in altri campi come bisogna fare voglio dare una chiara spiegazione questo è importante prima di tutto la cosa principale da fare la cosa più grande in assoluto è riconoscere che questo è peccato non possiamo solo cercare di migliorare devo dare più tempo a quell'altro devo dare più tempo a quell'altro quello è il nostro orgoglio che non vuole umiliarsi davanti a Dio e dire Signore ho peccato contro di te prima cosa da fare è riconoscere il nostro peccato combattere l'orgoglio che vuole solo migliorare ma non avremo mai vittoria sul peccato cercando di migliorare quando pecchiamo non vivendo come Dio ci comanda trascurando impegni che ci ha dato il primo passo dopo aver riconosciuto che non stiamo seguendo quello che Dio ci insegna è di riconoscere che questo è peccato e poi senza scuse senza giustificarci confessare quel peccato ehi Signore lo so ma sai perché no no Signore ho peccato poi dobbiamo capire che stiamo innalzando quello in cui stiamo investendo troppo per battere giù altri cioè stiamo innalzando il lavoro più di curare la famiglia e usare i doni o stiamo innalzando la famiglia più che curare la chiesa o stiamo innalzando il ministero che ci piace anziché curare la famiglia cioè può essere in qualunque campo che facciamo troppo dobbiamo confessare questo poi dobbiamo capire che il motivo per cui abbiamo innalzato quello è che non stiamo vedendo Cristo non stiamo vedendo Cristo per quanto il mio esagerazione potrebbe essere nel studiare la Bibbia per insegnare usiamo quello come esempio a quel punto io sto studiando la Bibbia ma non sto vedendo Cristo io sto evangelizzando ma non sto vedendo Cristo io sto facendo qualcosa di buono ma non sto vedendo veramente Cristo sto imparando versetti di memoria con i miei figli ma non sto vedendo Cristo perché se sto vedendo Cristo non ho bisogno di esagerare in alcun campo dico signore quando tu vuoi che io ho un nuovo lavoro mi aprirai la porta senza che io debba compromettere tu mi farai più avere modo di avere più soldi dice un'altra che sta cercando di cambiare lavoro tu mi darai il necessario senza che io debba compromettere tu curerai bene i miei figli anche se io do meno tempo di prima perché non è il mio tempo che serve è la tua benedizione e quindi dobbiamo guardare più a Cristo anche se la cosa era per Cristo allora conosciamo tutti l'esempio e chiudo con questo in Luca 10 di Maria e Marta e voglio leggere quel brano Luca 10 Maria e Marta Gesù arriva a casa loro e notate dovevano preparare la cena per lui immagino che era cena non dice ma servire sì probabilmente era la cena o un pranzo quello che era voglio leggere quello e vediamo il cuore di Marta ora mentre essi erano in cammino avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria la quale si posì a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola ma Marta tutta presa dalle molte faccende si avvicinò e disse signore non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire dille dunque che mi aiuti ma Gesù rispondendo le disse Marta Marta tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose ma una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta certamente non era peccato per Marta di impegnarsi a preparare quello che si serviva diciamo la cena non era peccato serviva lo aveva invitato in casa aveva invitato Cristo e doveva preparare per lui certamente non era sbagliato il problema il peccato è che era talmente presa con un impegno da Dio che non aveva gli occhi fissi su Gesù Cristo infatti qualunque volta che un impegno ci toglie gli occhi da Cristo stiamo dedicando troppo del nostro cuore e del nostro tempo a quell'impegno e voglio fare un parentesi qua ricordate Matteo che Gesù parla di al giudizio metterà le pecore e le capre dai due lati e dice alle capre quando avevo fame non mi avete dato da mangiare e quando ero nudo non mi avete vestito e quando ero in prigione non siete venuti a trovarmi ricordate e loro ma quando ti abbiamo mai visto in quella condizione e come risponde quando non avete fatto per uno dei minimi di quello che credono in me non avete fatto per me una parte di tenere gli occhi su Gesù è di tenere gli occhi su altri credenti ah ma io non ho tempo per altri ma io merito su Cristo tutto il giorno oh sì sì in tutti i miei impegni anche in macchina qua là io merito sempre su Gesù ho gli occhi sempre su Gesù ma non ho tempo per gli altri credenti non stai guardando a Cristo perché si vede Cristo anche negli altri credenti stai trascurando Gesù quando non avete fatto a queste minime non avete fatto a me allora io non conosco tanti credenti vicino a me fisicamente che vivono vicino che sono affamati o nudi o in prigione ma conosco tanti credenti vicini a me che hanno bisogno dei miei doni spirituali come io ho bisogno dei loro doni spirituali allora la domanda Gesù potrebbe dire a me o a te quando tu non hai curato spiritualmente con i tuoi doni gli altri non hai curato me questo è il punto di quel brano e quindi tenendo gli occhi fissati su Cristo non è solo di chiudimi isolandomi da tutti i credenti e meditare quello è importante ma non è solo quello e avere un stretto legame con gli altri come Efessini 4 parla essendo ben connessi insieme per usare i miei doni e ricevere dei loro doni questo è come posso glorificare Dio in tutto quello che faccio poi devo chiedermi io sto cercando la mia identità in quello in cui esagero uno può essere il lavoro un altro può essere un approvazione degli uomini per un altro può essere una carriera per un altro può essere la famiglia sto cercando la mia identità in quello o nell'essere in Cristo quando stiamo veramente guardando Gesù Cristo quando cerchiamo la nostra gioia in Cristo e non nella bella famiglia o nel lavoro finalmente quel lavoro solido e stabile no quando cerco la mia gioia in Cristo allora possiamo fare tutto con l'equilibrio giusto allora possiamo lasciare un impegno e passare al prossimo impegno anche se quel primo impegno non è come avremmo voluto ma dico sì ma io non devo smettere perché ho anche da fare quell'altro e quindi faccio tutto quello che mi ha chiamato a fare e avremo pace se guardo a Cristo signore io non posso andare avanti qui non ho non ho fatto potrei fare di più ma se faccio di più trascuro qualcos'altro quindi non devo fare di più smetto lì chiudo i libri chiudo il lavoro quello che è vado avanti e mi fido di te quando cerchiamo la nostra pace in Dio possiamo fare tutto con l'equilibrio possiamo lasciare a metà qualcosa con pace Dio vuole che viviamo con pace Dio vuole che affrontiamo gli impegni del giorno con un cuore tranquillo e non agitato grazie a Dio e come possiamo avere un impegno un cuore tranquillo quando gli impegni sono troppi da poter fare che è la realtà come possiamo avere pace quando è impossibile compiere tutto la risposta è semplicemente veramente tenere gli occhi su Gesù come Maria veramente cercare la nostra gioia in Cristo non in quello che riusciamo a compiere allora possiamo affrontare gli impegni con pace possiamo andare a letto con pace lasciando a Dio quello che non abbiamo potuto fare ma vi dico una cosa però quando io vivo guardando a Dio Salmo 127 allora è l'Eterno che edifica la casa allora è l'Eterno che appiana la via allora è l'Eterno che raddrizza la strada che era torturosa e diventa molto più veloce allora le cose vanno lisce quando questo è il piano di Dio tenere gli occhi su Cristo vuol dire confidare in Cristo e non in quello che avremmo potuto fare almeno nella nostra mente dedicando più tempo se un genitore confida in sé stesso e non in Dio non avrà mai abbastanza impegno per i figli devo fare di più devo fare di più devo fare di più non ho tempo per usare i miei doni per gli altri se non qualche goccia qualche briciola che devo curare i miei figli ma non è Dio che sta curando i figli a quel punto sei tu e ti garantisco noi genitori non possiamo noi produrre frutti nei nostri figli questo no invece quando dici signori io confido in te io vivrei vivrò come mi hai comandato tu e guardo a te per i risultati allora è Dio che appiana la via quindi la mia preghiera è in ogni campo della vita servizio per il Signore lavoro famiglia ogni cosa che facciamo che possiamo confidare in Dio cercare la gioia in Cristo non in quello che riusciamo a compiere e che quando riconosciamo di non essere collegati che possiamo confessare questo confessare questo e a volte se posso dire vuol dire confessare agli altri fratelli non sto usando i miei doni con voi perdonatemi questo sarebbe un modo di confessare un peccato io da un po' di tempo sono preso con le mie cose con questo con quell'altro e io vi sto trascurando non sto usando i miei doni spirituali vi chiedo perdono questo è bello questo porta grandi benedizioni quindi la mia preghiera è che ognuno di noi possa esaminarsi non solo adesso ma tutta la vita perché io posso migliorare adesso e poi fra poco tempo qualche mese qualche periodo di tempo possa di nuovo trovarmi in modo non equilibrato prego che possiamo esaminarci che possiamo riconoscere quando qualunque impegno è diventato troppo grande per farci trascurare altri in quel caso prego che possiamo confessare quel peccato guardare a Cristo per la gioia e non a quello che volevamo compiere credo crediamo preghiamo di confidare in Dio e questo porta ad avere pace in qualunque campo per quanto vale bene o va male e sopra un'altra cosa prego che possiamo capire che la vera soluzione per il problema di impegnarci troppo in qualunque campo appunto di trascurare altri campi è dobbiamo diventare più come Maria e non come Marta non vuol dire non fare ma vuol dire non essere presi non essere presi Marta era presa da tutti gli impegni il problema non era quello che faceva era dovere il suo cuore prego che vedremo più Cristo e per vedere più Cristo abbiamo bisogno gli uni degli altri abbiamo bisogno gli uni degli altri per vedere la sua gloria la sua bellezza la sua potenza e confidare in Lui questa è la mia preghiera per noi preghiamo Padre voglio ringraziarti che Tu ci dai tutto il tempo necessario per compiere tutto quello che Tu hai per noi da fare siamo noi che non valutiamo bene trascurando certe cose che ci dici buttandoci in altri e magari possiamo buttarci in varie direzioni diversamente l'uno dall'altro perdonaci per la nostra stoltezza quante volte abbiamo cercato noi di edificare la casa e Tu non c'eri e non porta frutto non vero frutto non frutto che dura non frutto che benedice siamo stolti mostraci il nostro peccato perché vogliamo quel meraviglioso dono chiamato il perdono vogliamo confessare senza giustificarci senza scuse per confessare i nostri peccati vogliamo fare tutto alla Tua gloria vogliamo cercare per primo il Tuo regno la Tua giustizia vogliamo confidare in Te solo Tu puoi darci quello che ci serve e Tu sai quello che ci serve aiutaci quando servi a cambiare direzione ti ringrazio per Gesù Cristo ti ringrazio che c'è un tesoro a cui possiamo aggrapparci Gesù Cristo ti ringrazio che Tu edifichi la casa quando noi dimoriamo in Cristo allora insegnaci a dimorare in Cristo ti prego questo affinché possiamo avere una vita che è piena di frutto alla Tua gloria ti prego questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo Amen Amen